buongiorno amici eccoci qui a roma in quelli roma oggi facciamo tre giorni a partire da oggi di vacanza siamo nel quartiere san lorenzo credo almeno così mi hanno detto e siamo appena giunti in hotel questa è la visuale dal balconcino adesso andiamo a inquadrare un attimo la stanza eccoci qua e questa è la nostra stanzetta ovviamente cercherò di non farvi mancare nulla nel nostro tour ci risentiamo dopo ciao la stanza eccoci 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 Grazie a tutti. 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 Inspire me. 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 Forever. Inspire me. Inspire me. Inspire me. Forever. Forever. Inspire me. 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 Me. F� exposire me. Inspire me. Whereas, I would... montare me. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.